Al conservatorio di Santa Cecilia si celebra il cinquantenario della cavalleria rusticana con un concerto di musiche mascagnane dirette dall'autore. Il ministro Botai consegna a Mascagni la stella d'oro al merito della scuola. A significare che la scuola italiana segna la nascita di cavalleria tra le date gloriose della nostra vita artistica.